Fratelli e sorelle bianconeri, notizia incredibile, Morigno, José Morigno, nuovo allenatore della Roma, sarà lui il designato a sostituire Fonseca all'inizio della prossima stagione, quando sembrava certo che il benzinaio, lo scaccolatore Sarri fosse il designato, stamattina tutti i giornali parlavano già della campagna acquisti di Sarri, prossimo a firmare a giorni praticamente, ragazzi, questa è l'ennesima dimostrazione che molte volte i giornali non ci capiscono, ne merita minchia, delle vicende di calciomercato, quando sono fatte bene, quando le trattative sono fatte bene, ecco, José Morigno, scusate, José Morigno, torna in Italia, torna ad allenare in Italia, io a questo punto faccio un disperato appello al governo italiano, per favore, Draghi, tutti voi del governo, fate tornare le persone allo stadio, fate tornare noi tifosi allo stadio, vi prego, abbiamo, specialmente noi juventini, abbiamo un disperato bisogno di essere 40.000, tutti all'unisono, pronti a sputare in faccia a José Morigno e ad Antonio Conte, non ci bastano 3.000, 4.000 persone, vi prego, vi prego, maledetta pandemia, vattene maledetto Covid, governo italiano, Draghi, fateci tornare allo stadio, fatto, fate tornare la torsida all'Allianz Stadium, sicché potremmo finalmente coronare il nostro sogno di riempire di saliva, di saliva, José Morigno e Antonio Conte e bombardarli di fischi, pernacchie, cori per tutti i 90 minuti. Il mio sogno, ragazzi, non so se effettivamente è realizzabile a breve, però vi prego, fateci tornare allo stadio, ho voglia di sputare a questi due individui personalmente, vi prego, fino alla fine.